La disoccupazione preoccupa ma aumentano i posti di lavoro, sono le parole di Matteo Renzi. Lei come risponde? Che è un presidente del Consiglio Folle. Il 13,2% di disoccupazione, il massimo storico, vuol dire che Renzi non si rende conto dei problemi, e mi auguro non sia così, ma ancora peggio che Renzi se ne frega del dramma che stanno vivendo i nostri cittadini. Stiamo affrontando in questi giorni una legge di stabilità che aumenta le tasse e dunque diminuirà i posti di lavoro. Le uniche risorse aggiuntive che dà sono quelle per gli estracomunitari e stranieri, infatti il fondo viene aumentato fino a 190 milioni di euro all'anno in più. Chiaramente è una battaglia che noi portiamo avanti per spostare queste risorse e dare risposta a quei cittadini che lavorano e lo trovano, a quelli che vivono la crisi, a quel 13,2% di disoccupati che non hanno più soldi per mantenere se stessi e la propria famiglia. Noi vogliamo dire con chiarezza prima la nostra gente e questa sarà la battaglia della Lega che farà la Camera ed anche il Senato in questa legge di stabilità, ma anche nei provvedimenti futuri.